Sergente, agli ordini! Predispongo un posto d'osservazione al piano di sotto. Allarme rosso, ripeto, allarme rosso! Attuare immediatamente piano Charlie! Muoversi, muoversi, muoversi! Questo è molto grosso. Walt Disney Pictures presenta un film di animazione straordinariamente nuovo. Un vero film-evento. Comando stellare, rispondete, passo. La storia di due giocattoli... Non ci sono segni di vita intelligente su questo pianeta. Ciao! Destinati allo scontro. Io mi chiamo Woody e questo è il mio posto. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace. Sei solo un giocattolo per bambini! Tu sei uno strano e triste omuncolo. In un mondo che ha regole tutte sue. Spara! Colpito! Non mi piacciono i duelli. Buzz, guarda! Un alieno! Ti prendi gioco di me? Una notevole apertura d'ali! Sei forte! Beh, cosa c'è? Cosa c'è? Non può volare! Sì, invece. Io posso. No? Posso. Non puoi! Non puoi! Non puoi! L'avventura decolla nel momento in cui i giocattoli prendono vita. Verso l'infinito e oltre! Toy Story! Visto! Posso!